È iniziata col botto sabato sera la nuova vita della discoteca Spleen di via Aldomoro ad Arco. Massimo Barletta, gestore del bar Marameo di via Santa Caterina, ha rilevato l'attività e ridato agli amanti della vita notturna alto-gardesana, un locale dove poter ballare e divertirsi. Un pubblico variegato di tutte le età, dai giovanissimi ai più fedeli e nostalgici frequentatori. Si conferma dunque un target ampio, quello dello Spleen, mentre gli amanti della musica afro staranno già aspettando l'appuntamento di sabato con DJ Corrado in console. Ci si augura dunque che il locale possa finalmente tornare al successo di 30 anni fa. Siamo con Massimo Barletta, titolare dello Spleen, discoteca Spleen, che ha appena aperto questa sera sabato. Allora Massimo, cosa l'ha spinta ad aprire questa discoteca storica dell'Alto Garda e quale può essere l'appeal che può portare le persone ad entrare e a passare una bella serata? Allora, la cosa che più mi ha spinto a intraprendere questa nuova avventura e a rieprire questo storico locale è stato il fatto che girando per i locali vedi sempre un continuo esodo dei ragazzi verso il Bresciano e il Veronese a cercare locali, discoteche, pub, comunque dove c'è musica fino a un certo orario. Devo dire che mi ha dato una mano l'onorevole Mauro Ottobre per spingere a fare questa avventura e vediamo. Io spero veramente per tutti i ragazzi della zona che riescano a capire, a comprendere il motivo per cui abbiamo fatto questa avventura, abbiamo intrapreso questa avventura. E quali saranno le prossime date in programma? Come si svolgerà la gestione di questo locale? Allora, noi faremo, abbiamo un progetto in realtà che comprende serate dove non sono ammessi i ragazzi sotto i 18 anni proprio per evitare bevano alcol eccetera. Vogliamo portare questo locale a funzionare comunque non solo con le persone adulte ma anche con le persone meno adulte. Per cui faremo delle serate anche per i ragazzi giovani dove saremo molto attenti all'alcol eccetera. Faremo delle serate afro in ricordo dei vecchi tempi, faremo delle serate over 25, anni 70, 80 e punteremo a fare delle giornate che può essere la domenica pomeriggio per i ragazzi dai 14 anni in su. Grazie a tutti.